Che cos'è il progetto Anatomia e dinamica di un territorio e che tipo di ricerca è? Di cosa si tratta? Anatomia e dinamica di un territorio è un progetto fotografico che è svolto dagli studenti del secondo anno del bienio della scuola di fotografia Bauer di Milano e che ha per oggetto uno studio e una lettura di un territorio, in particolare si tratta del territorio della Val del Boite in relazione alle trasformazioni che questo territorio sta incontrando e che sono state messe in atto per le prossime Olimpiadi Invernali che si terranno a Cortina nel 2026. Che cosa succede in questi campus, in questi seminari? Allora, la Val del Boite è innanzitutto un'area che si sviluppa indicativamente appunto da Cortina fino a giungere a Pieve di Cadore. Noi siamo lì perché siamo riusciti a sviluppare anche dei parternariati molto importanti. Il primo anno che poi è il lavoro espresso nel libro abbiamo avuto come partner del Comune di San Vito il Centro Studi per l'Ambiente Alpino, TESAF, si chiama, che è un dipartimento dell'Università di Padova e soprattutto direi di Dolomiti Contemporanei che è un centro d'arte contemporane che è stato fondamentale perché ci ha permesso di entrare nel territorio in maniera pervicace direi. Quindi questo lavoro è un lavoro di lettura del territorio e ha una finalità, ha tante finalità, ma una è quella di creare relazione attraverso la fotografia. Dall'altra parte, dal punto di vista didattico, è un bel modo di lavorare e di sviluppare teoricamente e praticamente un progetto fotografico e di stimolare i partecipanti attraverso una sorta di committenza. Quali sono le pratiche che hai messo in atto per far lavorare gli studenti? È interessante sapere anche il modo e il processo con cui questi lavori sono stati realizzati perché in qualche modo raccontano proprio l'atteggiamento fotografico che è presente in questo libro. Il periodo dell'anno in cui siamo stati a leggere il territorio è l'ultima settimana di settembre, la prima di ottobre, un periodo in cui vi è praticamente una totale assenza di turismo, molte delle attività degli esercenti locali sono chiuse e quindi ci troviamo proprio in un momento di eccessiva quasi normalità, in più le attività di trasformazione e modificazione del territorio non erano ancora iniziate. Quindi ci siamo trovati tipo a una sorta di grado zero e quindi è stata una sfida per i ragazzi mettersi in relazione con questo spazio, territorio, aree, paesaggi nuovi, paesaggi umani anche e quindi la strategia qual è stata? La strategia è stata quella di trovare dei simboli, delle modalità simboliche di approccio alla lettura del paesaggio e del territorio. In particolare un aspetto che ho fatto molto presente durante i seminari è stata l'idea dell'invisibile, cioè di quel qualcosa che è presente magari già nel territorio e che vuole svilupparsi in un certo modo. Certo, in poche parole è difficile chiarire questo concetto, ma in fondo è nella lettura delle stratificazioni culturali che con la maniera in cui noi possiamo interagire con la realtà del territorio, entrandoci, come dicevo prima, anche facendo relazione e affinando, diciamo così, l'osservazione anche contemplativa, se vogliamo, degli spazi. Credo che un altro aspetto importante sia proprio il tema di questa ricerca. Sicuramente è un territorio che nei prossimi anni vedrà una forte pressione per il cambiamento. Siamo soliti pensare a un territorio montano come un territorio vergine, incontaminato, quando invece è chiaro che soprattutto in territori dove c'è una forte pressione turistica e di infrastruttura, in realtà l'immagine che noi vediamo, il paesaggio che noi percepiamo nella montagna, è un paesaggio fortemente modificato e progettato, con le poi relative conseguenze che questo comporta. Ancora di più qua l'idea di un'osservazione fotografica acquista, come dire, forza, perché in qualche modo registra il momento di questo cambiamento. È interessante anche perché dalle fotografie di questo racconto corale, noi vediamo che la montagna raccontata non è la montagna degli stereotipi turistici, sono paesaggi liminali, paesaggi in qualche modo residuali, a volte di valle, a volte sono paesaggi di lavoro e di uso reale del territorio. Questo secondo me è interessante perché appunto uno dei fini di una ricerca di questo tipo deve essere quello di andare ad indagare gli aspetti un po' meno noti e che spesso per una sorta di paradosso sono anche gli aspetti più normali. C'è una bella definizione in questo saggio di Mauro Varotto, Montagne di mezzo, che in qualche modo descrive la montagna come la montagna immaginata dalla popolazione urbana, che ovviamente deve essere un luogo di rigenerazione psicofisica elaborato secondo il classico meccanismo della geografia oppositiva. Cioè al mondo stressato della città si oppone questa immagine di montagna idilliaca fatta apposta per abbandonarsi in pensieri di relax, di purificazione dell'anima. La montagna raccontata nella vostra ricerca è una montagna invece reale. È la montagna che in qualche modo anche Varotto descrive in questo saggio una montagna di mezzo, lontana appunto dalle vette e dagli stereotipi legati a quelli al turismo. Grazie Giulia per queste riflessioni. Allora io sono assolutamente propendo assolutamente per questa via di mezzo, questa montagna di mezzo, perché è quello che abbiamo ricercato. A parte che proprio da un punto di vista geografico non abbiamo scelto le vette, non fino ad adesso, ma credo che anche se qualcuno degli studenti nel futuro sceglierà di rapportarsi con le vette, lo farà sempre con uno sguardo critico e non uno sguardo celebrativo, no? Sebbene si possa celebrare la bellezza, ma si faccia con un modo sempre costruttivo, diciamo. Quindi questi tuoi pensieri li condividiamo e li condivide il progetto. Si potrebbe dire anche che questa banalità del quotidiano è ciò che in un certo senso rifugiamo, ma che poi ci tocca e la dobbiamo vedere perché poi è un po' il mondo della vita, no? La vita reale ed è questo che è importante valorizzare in questi progetti fotografici che servono soprattutto perché a noi interessa, che servano poi anche alla collettività e ai progetti dei centri di rigenerazione o in generale culturali che lavorano nei luoghi. E quindi il nostro lavoro è un lavoro sicuramente che si sviluppa in verticale, nel senso che è un approfondimento e che quindi non ha una tipologia di lavoro orizzontale che tende a esaminare le questioni in superficie, come può essere appunto l'immagine stereotipata che pur avendo la sua funzione, diciamo così, di attrazione, però dimentica la realtà delle cose e fa pensare proprio alla domanda, alla montagna come uno svago e ci si dimentica di tutto il lavoro e la vita e la storia che in effetti come la montagna in particolare ma anche altri mondi degli ambiti naturali possiedono e che vengono cancellati un po' da questa vita a mordi e fuggi, no? Un po' fast in generale a cui diciamo un po' il consumo ci abitua. Quindi è un lavoro sicuramente che pone attenzione su le specificità, le individualità che caratterizzano poi la creazione di territorio e di paesaggio da parte degli abitanti. Grazie. 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 Grazie.